Buonasera amici di 8 Channel, ben ritrovati con un nuovo appuntamento con Offside Benevento. Il Benevento vince gara 1 dell'andata dei quarti di finale playoff contro la Torres grazie ad una prodezza balistica di Angelo Talia al primo gol con la maglia del Benevento, davvero un gol di pregevole fattura, un gol che avremo modo di commentare in studio in compagnia di Billy Nuzio Lillo a cui do il bentrovato. Ciao Pasquale, buonasera telespettatori. Buonasera a te ed ovviamente avremo modo di collegarci con lo stadio Vigorito, già breve per sentire i primi commenti con la nostra Sonia Lantella e ascolteremo a caldo chiaramente i commenti nel post partita dei protagonisti di questa sfida. Guai a cullarsi sugli allori Billy, però il Benevento aveva l'obbligo di provarci, di provare a mettere, per usare un termine automobilistico caro alla Formula 1, il muso davanti rispetto alla Torres che adesso sarà costretta chiaramente a vincere. Ricordiamo che in questa fase non ci saranno i tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore, con lo stesso risultato la Torres di stasera, maturato stasera Vigorito da parte del Benevento, la Torres accederebbe al turno successivo. Però ovviamente la gara la dovranno fare i Sardi, guai, ripeto, Billy a cullarsi sugli allori, però è un ottimo vantaggio. Ma credo che sia fondamentale per il Benevento aver messo a segno una rete e presentarsi a Sassari con questo vantaggio, anche perché oggi affrontavo una squadra, io l'ho detto nelle settimane scorse, per me la Torres è tra le squadre favorite per la vittoria finale dei play-off, squadra ben strutturata, che tra l'altro devo dire oggi è scese in campo sin dal primo minuto senza aver patito alcuna ruggine mentale post-sosta, perché ricordiamolo che sono stati fermi oltre tre settimane, invece sono scesi in campo con grande determinazione, aggressivi, hanno messo in difficoltà il Benevento nelle battute iniziali, ma poi la squadra allenata da Oteri ha preso le misure e c'è stato questo gran gol da parte di Talia. Me lo commenti Bill, lo commentiamo, il recupero palla di Talia che lascia sul posto tre uomini, si fa praticamente 40 metri palla al piede e poi arrivato dalle parti di Zaccagno, seppur defilato, fa partire un destro imparabile che spacca quasi la porta. Sì, tra l'altro Talia con la maglia giallorossa non aveva ancora segnato, mentre lo scorso anno proprio nei play-off quando indossava la maglia del Potenza aveva messo a segno una rete più o meno dello stesso tipo contro il Picerno. Lui è un incursore, oggi anche in un altro paio di occasioni è partito e ha lasciato sul posto i centrocampisti avversari sicuramente il migliore in campo in assoluto, il giovane talento della Cantera Sannida. E a proposito di Cantera va anche sottolineato che oggi in campo inizialmente ce n'erano ben tre di calciatori, perché c'erano anche Viscardi e il centravanti per l'ingiri. E poi è entrato anche Carfora e basti pensare che mancava l'infortunato Pastina, per cui chiaramente il Benevento quest'anno ha consacrato e lanciato quattro prodotti del proprio vivaio e questo credo sia un aspetto da sottolineare. Sempre più parte integrante di questo Benevento. In attesa di ascoltare la voce dei protagonisti live dal Ciro Vigorito in compagnia della nostra Sonia Lantella, ce ne andiamo per la prima volta in pubblicità. Non cambiate canale, restate qui, a tra poco. Un gol di Angelo Talia al ventiduesimo del primo tempo regala il successo prezioso al Benevento che vince gara 1 contro la Torres e sabato alle 20.30 in Sardegna sarà chiamato a difendere il gol di vantaggio. Ma ricordiamo che a questo punto il Benevento potrebbe anche permettersi di pareggiare. A questo punto, considerato il gol di vantaggio? Sì, è chiaro. Chiaramente pareggiato, lo 0-0, l'1-1. Pensavo al pareggio dei gol complessivi. Non pareggio dei gol, chiaramente pareggio sul campo. Sì, è chiaro. No, ma tieni conto che anche i risultati delle altre partite, il Catania ha battuto l'Avellino per 1-0 e la Juventus Next Genica è andata in vantaggio e ha impattato in casa 1-1 con la Carrarise. Quindi è tutto ancora in gioco e ricordiamo che domani sera si giocherà Vicenza-Padova a causa dell'allerta meteo che ha colpito il Veneto. Chiaramente condizioni meteo sfavorevoli e la conseguente allerta meteo emanata dalla Protezione Civile è stata rinviata la partita che dovrebbe essere giocata domani sera alle 20.30. Uso il condizionale, Billy, perché nel caso in cui non si dovesse giocare sarebbe un bel problema per l'eventuale slittamento delle altre gare. Però staremo a vedere, al momento si dovrebbe giocare perché le condizioni meteo dovrebbero essere molto favorevoli. Parlavi dei giovani, stasera ha giocato bene, a mio avviso molto 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 bene e anche meglio rispetto alle altre gare in cui era stato chiamato in causa. Viscardi con più sicurezza, non so se la pensa come noi, anche mister Gaetano Auteri, non che avesse giocato male. Chiaramente che coinvolgo subito con la nostra Sonia Lantella a proposito dei giovani. Buonasera e bentrovati. Buonasera. Eh sì, buonasera a te Pasquale Abile, i nostri telespettatori, siamo qui con Gaetano Auteri. Il Benevento era chiamato a vincere, avendo perso il doppio vantaggio e lo ha fatto questa sera, imponendosi. Gradualmente sì, abbiamo ottenuto con merito, abbiamo fra virgolette sofferto la loro aggressività ai primi 15 minuti, ma perché rimanavamo costruendo, rimanavamo troppo larghi con Lanini, rimanavamo troppo larghi con Ciciretti. Invece in quelle situazioni loro ci andavano a prendere a uomo e poi invece siamo cresciuti. Poi abbiamo migliorato alcune cose, siamo andati a giocare a Fredini, Ciciretti ha capito come si doveva comportare, anche se sono concetti che sanno. E quindi siamo cresciuti, nell'arco della gara siamo cresciuti. Peccato non dare la palla a qualche compagno meglio posizionato in qualche situazione in cui siamo andati via con tanto spazio davanti. E poi abbiamo gestito la partita, alla fine eravamo un po' stanchi, tanti giocatori, ma perché giocare tre giorni prima una partita anche di grande emotività non è facile. Adesso avremo un giorno in più per recuperare. Andiamo avanti, abbiamo affrontato una squadra buona, ma noi abbiamo dimostrato di potercela giocare questa sera. Bene tutti, bene Italia, un gran bel gol. Sì, ho fatto quello che doveva fare, ma lo doveva fare ancora meglio, poi dopo è uscito un po' di tensione, probabilmente vittima di qualche affaticamento muscolare. Però abbiamo all'interno del nostro organico dei cambi, la squadra mi è piaciuta anche nell'interpretazione, anche se ripeto, in alcuni momenti quelle partite vanno chiuse. Nonostante lo devo dire, a me non piace parlare, però lo devo dire, un arbitraggio che ha usato un metro di giudizio, che ci può stare? Lasciando molto correre, però poi dopo alla fine alcuni tipi di falli, a loro li fischiava, ce n'è stata una punizione anche dopo 5 minuti, poi dopo invece a noi no. Quindi esponendoci a farci allungare in campo, ma ce ne sono state tante, queste cose influiscono nell'economia della gara. Si è arrabbiato giustamente il direttore, è stato espulso per un fallo di 7 secondi su Pellingeri, ma come si fa? Non è che si determinano così le partite, però quando ne subisci 20 così, quindi gli arbitri non mi è piaciuto, lo dico, perché poi lo dico. Studio. Luciano è un altro giocatore che può fare quello, l'ha fatto anche discretamente. Simonetti è poi un giocatore che ha gamba, mi sono un po' arrabbiato perché veniva troppo dietro, in questo suo impeto di generosità. Veniva troppo dietro, invece non volevo che venisse troppo dietro, perché lui comunque se avesse fatto qualche smarcamento incontro e poi andando ad attaccare lo spazio poteva diventare pericoloso. Anche per lo stesso motivo è entrato Carfora. Veniva troppo dietro, ecco quel era il motivo, per cui lui chiamò stai su, stai davanti, perché tanto poi quando si recupera la palla nel calcio c'è tutta una conseguenza, ma quando si recupera la palla non c'è riferimenti davanti, lui era uno di quelli. E chiaramente dopo subisci, fai fatica a riproporre il gioco offensivo. Buonasera mister, soprattutto complimenti perché al di là della prestazione, stasera in campo complessivamente c'erano quattro ragazzi delle formazioni giovanili. A dimostrazione che lei dà fiducia ai giovani, così come l'ha dato a Viscardi in un momento importante, oggi Italia penso che l'abbia ripagato al di là del gol con una prestazione eccellente. Quanto è soddisfatto di questi progressi da parte dei Gioni? E sottolineiamo che mancava Pastina, che è un altro prodotto del vivaio giallorosso. Sa come le rispondo? Di strada, sa quante ne devono fare? Tanta. Siamo appena agli inizi per cui bisogna perseverare, sono tutti ragazzi che hanno qualità, ma hanno dei margini di miglioramenti che nessuno immagina. Tutti, anche Italia, ma io sono sicuro che lo faranno. L'unico problema, pensando a sabato, sarà la stanchezza, perché effettivamente il Benevento rispetto alla Torres ha speso molto. Già questa sera sul piano fisico è chiaro che loro erano molto più freschi, sabato potrebbe essere ancora peggio la situazione e quindi magari qualche condizionamento anche nelle scelte. No, ma adesso abbiamo un giorno in più. Questa è una grande fortuna, perché giocare tre giorni prima e dopo tre giorni fare una partita in Polone, se ha quattro giorni c'è una cosa diversa. Recupereremo due giorni completamente, avremo poi il tempo di preparare la partita perché non la dobbiamo preparare. Perfetto, ancora complimenti, un po' in bocca al lupo per sabato. Ringraziamo Gaetano Oteri. A te Pasquale. Grazie, grazie a mister Gaetano Oteri. Per ritornare al discorso che facevamo prima, quando parlavo di personalità dei giovani, quindi di Viscardi, non che avesse giocato male. Ha giocato titolare, sia chiaramente complice l'infortunio di Terranova, sia a Trieste che con la Triestina poi sabato scorso in casa. E anche stasera, terza consecutiva da titolare. Play-off delicati, gare importanti. Stasera però, secondo me, la sua migliore partita perché ha giocato senza fronzoli, Billi. Non rischiando praticamente nulla. Sì, ma sta crescendo anche perché avverte la fiducia del tecnico, ma anche dei compagni di squadra. Lo si vedeva Capellini, i cenni d'intesa che c'erano tra i due, a dimostrazione che il ragazzo viene considerato anche dai compagni di squadra. L'altro, anche ingiustamente, qualcuno aveva puntato il dito su Viscardi per la rete che aveva subito nell'altra partita del Benamento, dove in effetti Viscardi era andato a chiudere perché Capellini aveva perso il suo... C'era stato un errore complessivo di squadra, di posizionamento. Chiaramente, quei giovani bisogna avere pazienza. Sicuramente, magari, possono avere degli alti e bassi. Per esempio, per l'Inciri, questa sera, all'inizio, ha avuto degli spunti eccellenti, poi man mano si è perso. Però bisogna avere la capacità, altrimenti, in questo paese, noi, come sappiamo, non diamo molto spazio e fiducia ai giovani. Aspettiamo, invece, occorre insistere. Ripeto, è una cosa importante. Basta vedere l'esempio del Cesena, che con 4-5 prodotti del Vivaio ha stravinto il girone B del campionato di Lega Pro. Assolutamente sì. Coinvolgo nuovamente la nostra Sonia Lantella, stavolta non è in compagnia di alcun ospite. Giusto, Sonia, per capire se chiaramente condividi la nostra disamina. Benevento che è partito un po' contratto, che però alla lunga è venuto fuori. Forse in questa partita c'è un po' di rammarico di Amaro in bocca per non aver segnato un altro gol. Vengo da te. Pasquale, si sapevano le qualità degli avversari, pressano molto alto, ti inducono all'errore e sfruttano proprio questi errori. Quindi era un po' prevedibile la partenza sprint della Torres. Tra l'altro, ricordiamola, anche più fresca proprio perché ha aspettato rispetto al Benevento che veniva da appena tre giorni. Per cui è chiaro che era prevedibile questo atteggiamento diverso da parte della Torres. Poi pian pianino però il Benevento ha preso le misure. A mio avviso ha meritato questa vittoria, ma soprattutto si esce dal vigorito anche un po' con l'amaro in bocca. Perché è vero che Paliari ha fatto un'importante parata, però va detto che ce ne sono stati d'occasione. Penso anche a quella di Improta, ma come diceva Gaetano Teri, in alcuni casi è stata sbagliata la scelta. Perché magari c'erano dei giocatori più liberi, più vicini alla porta, andavano comunque innescati e così non è stato fatto. Però credo che la prova sia stata positiva, quella del Benevento che ruba il doppio vantaggio. Perché potrà anche pareggiarla, ma di là di questo, perché poi chiaramente sappiamo che Oteri non le gestisce le situazioni. Ci aspettiamo un Benevento che punterà alla vittoria anche nella gara di ritorno. Però insomma c'è da dire che è stata a mio avviso una buona prova, il risultato giusto. Inizialmente un po' di nervosismo, ma poi pian pianino la strega è venuta fuori. E a mio avviso insomma poteva esserci anche il raddoppio, sarebbe stato meritato e non assolutamente ingiusto. Abbiamo però pronto il protagonista di questo match, Talia, quindi il tempo di microfonarlo. Ti restituisco momentaneamente la linea. Grazie mille, vengo subito da te. Chissà perché così a sensazione credevo che sarebbero venuti i nostri microfoni. Ma è giusto, no? Tributargli il giusto e doveroso omaggio, no? Perché poi, non so, chi ti ha ricordato quando ha fatto quell'incursione? Poi palla al piede, personalità, grinta, corsa, tecnica e poi un tiro che ha lasciato di stucco l'estremo difensore ospite. Ma lui c'erano le corde il ruolo di incursore. È molto bravo a rubare il tempo e andarsene in progressione. Tra l'altro un tiro straordinario, insomma imparabile per l'estremo difensore della Torres. È un ragazzo che ha bisogno chiaramente, come tutti i giovani, di giocare per continuare questo suo processo di crescita. Ma credo che sia uno degli elementi fondamentali di questa squadra. Anche l'intesa con Nardi che ho visto migliora sempre più, c'è sempre più intesa. Insomma, un ragazzo da stimolare a crescere perché davvero ha delle ottime prospettive per il futuro. E ci ha ascoltato, ci sta ascoltando. Tra l'altro è stato l'unico cambio rispetto all'undici che aveva battuto la Triestina. Vado nuovamente da Sonia Lantella in compagnia del match winner. Bomber, Angelo Talia per una notte. Eh sì, non possiamo non partire da quel gol che ha determinato la partita. Una bella soddisfazione. Sì, sono molto contento, molto emozionato. È stato un gol che cercavo, volevo da tanto. Stasera, in questa bellissima partita, l'ho cercato, volevo a tutti i costi e quindi è arrivato subito. Tra l'altro hai alzato la testa e hai visto che ti si era aperto proprio un barco per poter tirare. Non ci hai pensato su due volte? No, come ho ricevuto palla, ma non mi ricordo da Ciciretto, da Improto. Ho visto per l'ingeri facendo, diciamo, un movimento per portarsi il difensore centrale. Quindi ho visto lo spazio libero, ho preso palla, l'ho puntata di tutti e sono arrivato e ho tirato un bel tiro. Ho detto no, devo fare gol questa sera. Studio. Buonasera e complimenti Angelo. Forza, dinamismo, davvero grande carattere, voglia e personalità perché altrimenti un gol così non lo fai. Complimenti ancora. Volevo chiederti, quando il mister a ridosso del match ti ha detto che avresti giocato titolare, che cosa hai provato? Perché comunque si affrontava un quarto di finale, gara d'andato con la Torres e contro la Triestina avevi riposato. Sì, rispetto all'andata contro la Triestina volevo fare una partita, diciamo, quella che facevo di solito. Però lì a Triestina non ho fatto, diciamo, una partita che volevo fare. Ecco, poi il mister ha dato spazio ad Agazzi, ha fatto benissimo il ritorno. Sono entrato e sono entrato molto bene. Il mister stasera mi ha dato di nuovo l'opportunità e penso che l'ho ripagato. Assolutamente sì. Billy Nuzzolillo. Ciao Angelo e complimenti per il gol e per la prestazione. Tra l'altro ho ricordato poco fa che tu anche l'anno scorso nei play-off con la maglia del Potenza eri andato a segno, sempre con una sgroppata, la ricordo bene. Stasera ho notato un aspetto. Sei stato più tu in cursore che non Nardi. E perché magari Nardi era più marcato e quindi tu hai voluto approfittare degli spazi che ti si aprirono davanti oppure è stata una scelta tattica fatta negli spogliatori dal tecnico? No, penso che abbiamo iniziato un po', diciamo, volevamo vedere un po' come ci aggredivano la Torres. Abbiamo visto che veniva una uomo, però mi concedevano un po' più di spazio a me rispetto a Nardi. Quindi siccome a Nardi abbiamo le stesse caratteristiche, l'ho voluta sfruttare al 100% e penso che l'ho sfruttato molto bene. Sonia, ultima per te con Angelo. Bellinuzzolillo aveva fatto i complimenti a voi giovani, li ha indirizzati a Gaeta Noteri e lui ha risposto ne devono fare ancora tanta di strada. Ecco, è l'atteggiamento che vi serve, no? Quello di mantenervi quei piedi per terra, anche come forma di tutela per farvi crescere. Sì, esatto. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra, non ci dobbiamo montare la testa. Dobbiamo continuare su questa strada, testa bassa e pedalare. Penso, come lo sto facendo io, lo stanno facendo anche gli altri giovani come me. Penso che dobbiamo continuare su questa strada, posso dire solo questo. Poi il lavoro ripaga. Ancora complimenti. Grazie. Bene, ringraziamo Angelo Talia. Ancora complimenti e in bocca al lupo per la sfida di sabato. Credo. A te Pasquale. Grazie, grazie ad Angelo Talia. Ritorneremo a breve al Vigorito. È giovane però, così come per l'ingiri nel post partita contro la Triestina, ha la grinta da veterano e poi ha questa personalità spiccata, possiamo dirlo. Esatto, no. E quello che notavo, io stavo riflettendo proprio su questo aspetto, la sicurezza, ecco, anche nell'affrontare le telecamere. Si vede con un ragazzo che è madrote molto. Quanto è stato importante lo scorso anno averlo dato in prestito al Potenza, perché se avesse giocato in quel catastrofico organico che è il retrocesso, sicuramente sarebbe cresciuto poco e non avrebbe avuto tante opportunità. Invece facendo un campionato intero in Lega Pro è un ragazzo che adesso ha delle certezze e lo sta dimostrando. Un po' spento, passiamo il termine stasera, Lanini, che ha sbagliato qualche passaggio di troppo. Peccato perché poi, come abbiamo rivisto anche con l'ausilio delle immagini, grazie all'ausilio delle immagini del VAR, c'era il fuorigioco quando poi ha segnato Ciciretti. Peccato perché lì avevamo visto il vero Lanini, la sgroppata. Quando le ha fatte stasera forse o si è intestardito, no, Billy, oppure ha sbagliato l'ultimo passaggio. Però certamente è uno che spacca in due le difese avversarie e può spaccare le partite, no, sempre e comunque. Allora, Lanini era un pericolo costante per la difesa della Torres, perché loro, aggredendo alti, avevano il baricentro molto in avanti, quindi devono stare molto attenti. temevano Lanini, quindi avevano un occhio particolare sui riguardi. Non ha avuto quegli spazi che solitamente predilige per partire e andare in profondità. Quelle poche volte che le ha avuto, nel secondo tempo, ha avuto un'occasione che l'ha tirato sopra la traversa. Probabilmente si è anche innervosito perché non ha reso come voleva. Lanini, del resto, è uno di quei giocatori che in questi play-off può fare la differenza e quindi chiaramente saprà recuperare magari la prestazione non eccellente ma buona di questa sera. Assolutamente sì. È entrato anche Ben Cariello nel finale, si è fatto sentire, no? È un calciatore che sta riprendendo via via la condizione. Era in panchina anche Terranova recuperato. C'è un giorno in più per recuperare. È vero, siamo solo a martedì, a pochi minuti dal termine della sfida vittoriosa contro la Torres. Però ti aspetti poi qualche altro cambio? Ma non lo so, io ho notato un aspetto che secondo me è importante. Sai, in queste partite, nei finali proprio attorno al novantesimo, è importante anche l'esperienza, nei play-off è fondamentale. E vedi, l'ingresso di Meccarillo, anche quello di Agazzi, insomma, che nel finale è entrato al posto d'Italia, sono elementi che chiaramente possono dare un contributo e del resto credo che ci sarà spazio anche per gli altri che magari nell'ultimo partito, vi distarite, che è sparito un po' dai radar. Ma sono convinto che prima o poi Auteri, in delle situazioni particolari, dove so che può sfruttare la sua velocità, lo utilizzerà. Bene, come sempre, nelle ultime uscite, anche Riccardo Improta, no? Che ha fatto benissimo le doppie fasi. Sì, i due Riccardo. Non solo Improta, anche Capellini, che nel ruolo di centrale, devo dire, se la sta cavando bene. Perdonami se ti interrompo, possiamo dire che ha praticamente annullato Fischnaller? Sì, che è un calciatore che, ricordiamolo, aveva messo a segno 11 reti. Tra l'altro che Auteri aveva avuto a Catanzaro, no? Aveva avuto a Catanzaro, sì. Compagno di squadra di Berra. Di Berra, su Tirol. Devo dire che... Calciatore comunque di categoria, Billy. Sì, ma la difesa ha retto. Insomma, questi uomini hanno trovato l'intesa. Anche Miscardi ormai si è inserito bene in questo contesto. E poi, quando hai in panchina elementi come Meccarello e Terranova, che ha recuperato dal problema muscolare che aveva, sicuramente è un qualcosa in più che ha il berevento. E soprattutto, sai, adesso giocandosi con una certa frequenza, perché poi bisognerà subito, dopo la partita di sabato, si tornerà a giocare, mi sembra, martedì. Per cui bisogna avere a disposizione quanti più giocatori in grado di poterli alternare, perché chiaramente i ritmi sono forsennati. Questi sono i play-off di Lega Pro. Ritorneremo a breve al Ciro Vigorito, dove ascolteremo ancora live la voce dei protagonisti in questo post-gara di Benevento Torres. Ce ne andiamo però per l'ultima volta in pubblicità stasera. Non cambiate canale, restate lì al rientro. Continueremo ad analizzare i temi di Benevento Torres e ci proietteremo alla sfida di ritorno di sabato alle 20.30. A tra poco. Un momento in studio per commentare questo post-Benevento Torres che ha visto i giallorossi di Auteri battere 1-0 i sardi di Greco grazie alla rete nel primo tempo un euro-goal davvero spettacolare, spaziale, oserei dire, di Angelo Tallia al primo centro con la maglia giallorossa. A proposito di Torres, Billy, volevo chiederti come hai visto la formazione di Greco, soprattutto dal punto di vista tattico? Allora, si è dimostrato come pensavo una formazione difficile da affrontare, ripeto, secondo me tra le principali favorite per la vittoria dei play-off. Però, come avevo detto già domenica scorsa in occasione del sorteggio, è stato un sorteggio favoribile per il Benevento perché loro giocano con il centrocampo a 4. Quindi chiaramente, il centrocampo a 2.00. Quindi come il Benevento, i due centrocampi? Quindi chiaramente, il Benevento non è andato in inferiorità numerica e tra l'altro vorrei sottolineare, questo è un aspetto anche per l'eventuale proseguo dei play-off perché se il Benevento, come tutti ci auguriamo, dovesse superare il turno, tieni conto che anche le altre due avversarie che il trabellone ha messo di fronte ai sanniti giocano con un centrocampo a 2.00. Sì, perché la Juventus, infatti, stasera si è rastiata con un 3-4-2-1 mentre invece la Carrarese con un 3-4-1-2. Così come la Torres. Perché il Benevento, sappiamo, spesso quest'anno ha sofferto contro le squadre che si arroccavano in difesa e contro le squadre talvolta che avevano tre giocatori a centrocampo. Ti sblocco due ricordi, Benevento Avellino, Avellino Benevento. Al di là poi delle occasioni, no? Contro la formazione di pazienza, però ha dimostrato purtroppo la formazione di sanità di soffrire centrocampi a 3. E poi si sapeva, insomma, che le due squadre, l'ha detto anche Auteri ieri in conferenza stampa, si somigliano molto per questa aggressione alta, tra l'altro è una delle specialità della Torres e anche del Vicenza. Sono squadre che vanno lì super a pressare Ferrari e della morte del Vicenza sono lì come forsennati sui difensori quando parte la manovra da dietro. Quindi sono squadre che hanno delle caratteristiche ben precise e del resto la forza l'abbiamo vista perché al di là del risultato e del fatto che il Benevento poteva anche raddoppiare, però insomma la Torres si è dimostrata squadra di rango oggi. All'andata e al ritorno contro la Trestini il Benevento aveva subito gol, no? 1-1 all'andata, 2-1 al ritorno. Stasera è stato importante non subirlo e soprattutto per la difesa, per il portiere. Sappiamo uno come Paleari quanto ci tenga a collezionare più clean sheet possibili in stagione. Anche questo è un segnale di solidità e stabilità o no? Sì, ma credo, lo dicevo prima, la prestazione del trio del pacchetto centrale difensivo è stata eccellente, insomma qualche piccola sbagliatura e basta. Ma poi hanno avuto anche il supporto di due centrocampisti perché sia Talia ma anche Nardi stasera ha corso tantissimo, non lo si è visto meno, magari in fase propositiva ma in fase difensiva è stato importantissimo quante volte andava a raddoppiare. Ma poi negli scontri, l'uno contro l'uno perché oggi erano spesso scontri individuali e comunque ha dato una mano grandissima ai compagni. Abbiamo detto del rinvio della sfida del derby Veneto tra Vicenza e Padova per il maltempo al tempo che ha colpito nelle scorse ore il Veneto si sono giocate, ricordiamolo ancora una volta, invece altre due sfide. Catania-Avellino terminato 1-0 per gli Etnei con la rete di Cianci e 1-1 la sfida tra Juventus Next Gen e Carrarese. Ti aspettavi questi due risultati? Ricordiamo che la Juventus aveva chiuso il primo tempo in vantaggio contro i Toscani. Allora, l'Avellino chiaramente giocava a Catania su un campo difficile al di là della forza del Catania che è questa annata un po' balorda della squadra etnea però chiaramente era importante e partire con uno svantaggio di 1-0 non è che sia proprio il migliore dei risultati per la squadra erpina nel ritorno al partito dei Lombardi di sabato perché chiaramente dovranno stare attenti perché il Catania è molto bravo nelle ripartenze. Sappiamo Catania che invece nel turno precedente aveva battuto l'Atalanta nel 23, no? Sì, ma proprio subendo molto ma giocando sulle ripartenze proprio per questo ti dico per quelle che sono le caratteristiche proprio tecniche della squadra etnea l'Avellino doveva essere molto attento nel fare la gara e nel non concedere degli spazi. Prima di ritornare al Vigorito volevo darti un dato importante stasera si sono sfiorate le 7.000 unità abbiamo anche un contributo importante da parte della nostra regia con Paolo Romano che a breve vedremo 6.520 di cui 167 tifosi ospiti a cui ho fatto un plauso come quelli del Benevento che andranno sabato a Sassari perché insomma non era facile l'ultimo momento organizzarsi le distanze, i costi e quindi chiaramente va fatto un plauso. Ti faccio vedere questo contributo me lo analizzi con me. Torciata giallorossa Billy stiamo guardando e stiamo vedendo le immagini che hanno accompagnato il Benevento nel pre-gara bella coreografia sciarpata con fumogeni giallorossi oramai possiamo dirlo c'è stato in stagione questo connubio la passione è ritornata pian piano tanto merito ai tifosi tanto merito anche alla squadra che ha saputo e sa ancora oggi esattamente far ritornare ovviamente di nuovo la passione. E tanto merito soprattutto alla curva che stasera era quasi sold out insomma era piena e che sta dando un grosso sostegno alla squadra in questo periodo l'altro ne parlavamo ricordiamolo che stasera allo stadio erano presenti anche a proposito di immortali esatto ci siamo intratuti con De Falco e Padella eppure loro ricordavano insomma la spinta che riesce a dare la torsita sannita nelle giornate migliori entrambi hanno detto e ci hanno detto nell'intervallo a cavallo tra primo e secondo tempo che sono sempre il dodicesimo uomo in campo e chiaramente noi ci auguriamo che sabato arrivi un risultato positivo perché poi un eventuale semifinale con la vincente della sfida tra Juventus e Cararese ritornare al vigorito stasera poco più di 6.500 unità io penso che si potrebbe puntare almeno ai 10.000 a quel punto non solo i 10.000 ma sicuramente insomma il numero aumenterà e sarà senz'altro superiore al dato odierno e speriamo che vengano anche visto che hanno portato bene anche eh sì hanno dovuto compiere due ore di più di due ore quasi quattro ore tre ore e mezzo infatti glielo abbiamo detto sia De Falco che Padella che salutiamo con affetti i cosiddetti immortali protagonisti della prima storica promozione targata tra l'altro Gaetano Auteri dalla C alla B quel famoso culminata in quel famoso 3-0 con Lecce che tutti sappiamo il 30 aprile 2016 glielo abbiamo detto se passiamo il turno dovete per forza di cosa venire del resto oggi c'erano quattro immortali due uno in campo uno in panchina due sugli sparti assolutamente sì nel segno della continuità di quella squadra che ha segnato profondamente nel cuore dei tifosi benamentani che noi tutti abbiamo definito la squadra degli immortali assolutamente che valse loro anche l'intitolazione delle strade in maniera goliardica per qualche ora per le strade di Benevento che presero il nome Illo Tempore dei calciatori che avevano contribuito al successo al primo storico successo a Prodo in Serie B la prima promozione storica in Serie B noi ci auguriamo che chiaramente il Benevento possa andare avanti possa continuare e possano ritornare magari chissà coinvolgendo anche qualche altro ex immortale nel corso della stagione abbiamo visto anche Fabrizio Melara sugli spalti anche fuori casa ha seguito la squadra quindi questo potrebbe essere di buon auspicio sabato si va a giocare in un campo comunque importante sicuramente sarà una spinta in più il pubblico di Fede Sarda però ovviamente ci saranno anche i sostenitori del Benevento perché nelle prossime ore probabilmente partirà la prevendita staremo a vedere in quanti andranno e raggiungeranno e seguiranno la squadra in quel disastro di trasferta ricordiamo null'altro che agevole del resto sono i numeri a testimoniare che il rullino di marcia in casa della Torre è stato straordinario 42 punti in casa con 30 gol fatti e 16 subiti a fronte di 33 in trasferta poi tra l'altro lo stadio attualmente ha una capienza limitata a 5.000 spettatori però stanno facendo dei miracoli a quanto pare per cercare di ottenere dalla commissione di vigilanza l'aumento dei posti uno stadio che teoricamente può contenere 7.000 spettatori e che è molto caldo la torcida della Torres insomma la conosciamo è tra le più calde insomma della Liga Pro intanto siamo in attesa di un altro tesserato del Benevento che a breve raggiungerà la nostra Sonia Lantella anche stasera ti faccio questa domanda chi sale e chi scende nel tuo borsino in casa giallorossa ah te l'ho detto Talia sicuramente è stato il migliore in assoluto a mio avviso del Benevento buoni sprazzi anche da parte di Ciciretti fino a che insomma il fisico ha retto anche i capellini a mio avviso si è ben districato insomma soprattutto in certe situazioni difficili a livello difensivo anche con uscite pulite e poi insomma vabbè io non stasera non boccerei nessuno sono buono contento per la vittoria dei giallorossi sono buono e clemente stasera sono buono e clemente assolutamente assolutamente sì parlavamo dei giovani parlavamo anche di Pierlingiri che stasera ha faticato un po' tra l'altro ti sblocco anche un ricordo a proposito di stagione trionfale nel 2015 2016 tra le fila della torre si gioca Idda che giocava in quell'anno con la maglia alla casertana e quindi ritornava al vigorito era già ritornato negli anni scorsi dopo quella stagione sfortunata però fu protagonista negativo per la casertana di quel famoso 6 a 0 purtroppo un ricordo brutto per lui c'era anche un altro calciatore che il Benavento ha incontrato negli ultimi anni sia con lo Spezia sia con il Pisa Mastinico e poi è uscito nel secondo tempo è che il Benevento ha guardato a vista dobbiamo dire è un giocatore che ha un piede che può fare male infatti nel secondo tempo ha creato un po' di grattacapi prima di uscire nel primo tempo sullo 0 a 0 bell'intervento di Paleari sul calcio punizione alla distanza del capitano della Torres che è stato bravo a calciare verso la porta Paleari attento io direi che chiaramente Billy Paleari l'unico difetto neo che si può trovare magari a questo portiere è nelle uscite alte per il resto tra i pali ne conosciamo tutta la forza ma sappiamo che Paleari tra i pali sicuramente è un calciatore che potrebbe tranquillamente giocare in Serie A magari ha avuto qualche limite a livello di carriera proprio per qualche indecisione sulle uscite però insomma stasera credo che non gli si possa appuntare nulla anche avere un calciatore io seguo in genere le pagine dei giornali il piccolo di Trieste la nuova Sardegna e vedo insomma quando affrontano il benamento vedo che la considerazione che comunque hanno nei confronti di giocatori come Paleari è chiaro insomma che vengono considerati a giusta ragione elementi importanti per questa categoria assolutamente assolutamente sì che partita dal punto di vista tattico ti aspetti al ritorno la stessa Torres aggressiva sì perché è un marchio di fabbrica della squadra allenata da Alfonso Greco quella lì di andare a fare questa pressione questa aggressione alta del resto lui fa anche abbastanza turnover per cui chiaramente mi aspetto dei cambi e ha comunque una formazione offensiva perché se tu vai a vedere un po' anche i centrocampisti ma sì in un centrocampista offensivo non è che lui oggi ha cercato di avere un atteggiamento più accorto no ha messo dentro la maggior parte dei giocatori offensivi a disposizione e nonostante ciò è andato ad aggredire alto e quindi chiaramente insomma non credo che ci che snaturerà quello che è il suo gioco e non a caso la Torres è considerata dalle squadre che da un punto di vista dello spettacolo migliori dell'intera Lega Pro parlavamo dell'importanza che gli riconoscono le squadre che affronta il Benevento lui ha difeso i pali del Benevento anche stasera in maniera egregia vale a dire Alberto Paleali in compagnia della nostra Sonia Lantella a voi ha detto bene Pasquale ci ha raggiunto finalmente Alberto Paleali si è fatto attendere ma chiaramente le fatiche sono tante anche per i portieri ancora una volta questa sera però ci ha messo il guantone scusate per l'attesa sì adesso con il prof abbiamo dovuto fare la vasca ghiacciata e sono un po' ci serve per recuperare sì dai oggi è andata bene siamo riusciti subito ad andare in vantaggio come avevamo preparato abbiamo cercato di mantenerlo per giocarci tutto per tutto la da loro adesso già domani mattina noi che abbiamo giocato magari cercheremo di fare più scarico e poi la prepareremo di nuovo tu come portiere hai una visuale perfetta ecco dove sono state le difficoltà i primi 15 minuti loro sono partiti a mille è stata proprio un'idea quella del Benevento di partire un po' più lento anche per studiare l'avversario o sono stati proprio bravi loro a mettermi in difficoltà con questo pressing alto no io credo che la Torres già analizzando la video faceva del suo tridente davanti un tridente forte anche di Akite che riesce ad attaccare benissimo la profondità quindi gli abbiamo Angelo è stato molto bravo a studiare e darci le indicazioni il nostro match analyst quindi sapevamo dove difendere bene sapevamo come provare a contraattaccare adesso ci aspetterà da loro una gara molto difficile sappiamo che in casa hanno fatto tanti punti durante il campionato hanno perso poche partite però da parte nostra l'obiettivo era cercare di portare a casa questa per potersi giocare veramente tutti i risultati da loro studio buonasera ben trovato Alberto e complimenti già nelle ultime partite nelle ultime settimane avevate dato prova di solidità difensiva quanto è stato importante stasera limitare al minimo le sbavature non prendere gol sappiamo quanto tu ci tengono i portieri in generale al clean sheet e quanto ci tenga tu personalmente e soprattutto stasera quanto è stato importante evitare sbavature specie sui calci piazzati perché nelle ultime settimane era stato un po' il tallone d'Achille del Benevento se posso dire la mia dobbiamo ancora lavorare meglio perché primo tempo hanno avuto un'occasione nitida dopo dieci minuti su probabilmente una spinta su Capellini dopo la voglio rivedere e anche nel secondo tempo ci siamo persi una marcatura e appena c'è stato un fallo a centrocampo sono andato subito da Loreno dal secondo mister a chiedere a chiedere delucidazioni quindi sarà tutto videoanalisi di domani ci tengo perché so che qualche limite lì lo abbiamo e dobbiamo subito analizzarlo perché da loro secondo me non ci concederanno niente ciao Alberto buonasera questa partita la partenza sprint diciamo da un punto di vista dell'aggressione alta eccetera ve l'aspettavate oppure vi aspettavate magari un impatto meno come dire così virulento da parte della Torres che magari sarebbe uscita poi fuori a strada facendo durante il corso della partita loro che li ha contraddistinti tutto l'anno saperli venire a pressare subito alti subito il portiere o comunque il difensore centrale nelle rimesse dal fondo ieri abbiamo provato a costruire anche col mediano gli abbiamo messo un filo in difficoltà quando è sceso Taglia a prendere la palla nel primo tempo all'incirca verso la mezz'ora quindi dare diciamo imprevedibilità e alternative è quello che dovremmo cercare di fare in questi due o tre giorni prima di prima di sabato questo è quello che è il mio pensiero Sonia chiusura a te con Alberto Autari lamentava l'arbitraggio due pesi due misure fischiava a loro favore e non a favore del Benevento in alcuni episodi anche quando c'è stato il rosso del direttore Carli in campo avvertivate questo? ma io ti dico la verità Sonia ho parlato con l'arbitro a inizio partita era il suo probabilmente l'ultima sua partita perché verrà verrà dismesso come si dice e ci ha chiesto ci ha chiesto di di comprenderlo di capire che non voleva non voleva spendere troppi cartellini gialli sì forse qualche qualche situazione su Mario quando ha cercato di proteggere palla che non ci ha fischiato fallo forse sì però alla fine io non mi lamento su questo anzi non mi ha ammonito che ho perso un po' di tempo quindi già questo è stato per me positivo quindi ora si va a Sassari il Benevento potrebbe addirittura pareggiarla ha invertito quelle che erano le posizioni iniziali ma il Benevento non ci pensa alla gestione ah no guarda io sincero credo che quest'anno quando abbiamo tra virgolette provato a gestire qualche situazione non ci è mai andata bene consapevole anche di quello che è successo nel passato nella mia carriera nei playoff gestire proprio non mi ricordo un playoff cittadella Benevento e viceversa che è andata così noi in finale con l'Ellas che eravamo in vantaggio è andata male quindi non penseremo proprio a gestirla proveremo andarla a vincere e venderemo cara la pelle ti faccio i complimenti e un bocca al lupo Grazie buonasera a tutti Ringraziamo Alberto Paleari a te Pasquale Grazie grazie ad Alberto Paleari che ci ha sbloccato un ricordo in negativo veramente cittadella loro chiaramente persero parlo del cittadella con Paleari tra i pali persero poi la finale contro il Verona guai a gestire le partite belle perché parliamo poi a proposito di gestire le partite abbiamo fatto ricordare a proposito di portiere lasciamo perdere e poi paradossalmente vedi nella gestione delle partite fino al 78esimo ieri sera il Bologna aveva giocato una partita fantastica con la Juve poi basta un errore e ne prendi tre chiaramente stiamo parlando di altre partite altro livello però io credo che non sia proprio nella indole nel modo di giocare di questo benevento di gestire le partite chiaramente perdonami limitare al minimo gli errori e poi sfruttare al massimo le occasioni che gioco a forza la Torres concederà allora il più grosso merito che va attribuito al tecnico Gaetano Auteri da quando è arrivato a inizio gennaio e che ha dato un'identità ben precisa a questa squadra e quindi chiaramente non la puoi snaturare questa identità è una squadra che cerca sempre di fare la partita che prova ad aggredire anche essa alta come fa la Torres ovviamente non lo puoi fare per 90 minuti anche la Torres stasera nel secondo tempo ha avuto dei momenti in cui ha dovuto rifiatare ma non credo che il Benevento vada a Sassari per giocare sul doppio risultato il Benevento andrà per fare la partita anzi se riesce a sbloccarla subito meglio ancora perché quel punto insomma sarà molto vicino al traguardo del passaggio del turno assolutamente sì coinvolgo per l'ultima volta Sonia Lantella che chiaramente ritroveremo nel post gara di sabato contro la Torres davvero Sonia partita importante del Benevento Benevento che adesso potrebbe addirittura giocare su due risultati su tre con la Torres però guai ad abbassare la guardia perché tutti chiaramente tifosi in primis stampa calciatori staff tecnico e società sono decisi e consapevoli nel continuare questo percorso mi è piaciuta la frase di Paliari che racchiude il senso di quella che sarà nella loro testa la partita di Sassari proprio non pensare assolutamente ha la possibilità di poterla pareggiare di gestirla ma di scendere in campo con una mentalità propositiva che poi è quella che ha accompagnato questa sfida al vigorito ribadisco ci sono stati i primi 15 minuti dove effettivamente la Torres è salita ha messo in difficoltà ha prestato alto ha giocato sugli errori dei giallorossi con tratti e nervosi inizialmente è anche vero insomma che c'era necessità anche di studiarlo l'avversario perché per quanto si possano vedere DVD e tutto ciò che si può analizzare è un girone diverso per cui il primo impatto l'approccio è sempre quello più difficile è evidente che sabato si affronteranno due squadre che oramai sanno già qual è l'indole dell'altro e il Benevento secondo me doveva vincere questa sera e non era semplice lo avevamo detto anche ieri ad otto gol però c'è riuscito quindi è chiaro che si va lì con un maggior ottimismo ma sempre con una grande concentrazione ci sono giocatori importanti ci sono giocatori in ogni playoff ci devono essere sempre quei 3-4 elementi che poi ti fanno alzare l'asticella e sono determinanti il Benevento ha dimostrato sia con la Tressina che questa sera di averli secondo me manca ancora qualcosa manca ancora l'Annini che a mio avviso sta pagando forse adesso l'infortunio che ha avuto perché generalmente si dice nel calcio che quando rientri alla prima fai bene poi dopo accusi il colpo lo sta accusando però noi stiamo aspettando ancora l'Annini che può essere l'altro dico l'altro giocatore determinante oltre a Ciciretti a Perlingeri ai giovani che stanno ben figurando è entrato bene Miccariello da solidità alla difesa insomma il Benevento ha dimostrato di avere delle qualità per poter andare avanti in questi playoff è chiaro che non andrà presa sotto gamba questa sfida non bisognerà crogiolarsi sugli allori e comunque la Torres è sempre una squadra pericolosa ha dimostrato di avere qualità e poi come lo diceva lo stesso Paliari ha un attacco formidabile per cui bisognerà essere molto attenti e concentrati però è evidente che il risultato di questa sera dà uno slancio in più al Benevento e poi chiaramente una nota e un plauso ai tifosi perché anche questa sera sono stati strepitosi la curva stracolma ha sostenuto la squadra e quindi sicuramente è stato un bel colpo d'occhio ci saranno anche tifosi che verranno a Sassari da premiare come sempre perché anche le trasferte più difficili penso a quella di Catania ci sono sempre stati per cui il pubblico c'è la squadra ha dimostrato di volerci essere e insomma si giocheranno altri 90 minuti più recupero la speranza insomma è che si possa andare avanti in questi playoff dove nulla è scontato basti pensare a quello che è accaduto sul campo di Catania al Massimino dove effettivamente non si possono fare i pronostici e bisogna sempre stare molto attenti e non sottovalutare l'avversario non pensare al doppio vantaggio perché può essere un'arma a doppio taglio però Auteri l'esperienza ce l'ha indirizzerà bene i suoi uomini noi chiaramente ci rivedremo sabato per commentare questa gara di ritorno è tutto dal Ciro Vigorito e vi auguro buon proseguimento di trasmissione a voi grazie a Sonia Lantella grazie alla parte tecnica curata come sempre da Fabrizio Angrisani noi siamo praticamente in conclusione Billy chiaramente rimandiamo l'appuntamento con Offside a sabato prossimo seguiremo chiaramente la gara di ritorno Billy ripeto per chi non lo avesse ancora sentito che partita è lecito aspettarsi da parte del Benevento è una partita con il gioco che vuole Auteri insomma il Benevento cercherà di fare la partita come lo farà la Torres sarà una partita spettacolare come lo è stata oggi e chiaramente bisognerà andare a sfatare il tabù del Vanni Sanna perché voglio ricordare che in C1 si sono affrontate ci sono tre vittori dei Sardi che le hanno ottenuti in casa tre dei Sanniti e un Parigi assolutamente sarà anche questa sfida un'occasione per sfatare qualche tabù va bene anche il Parigi assolutamente vogliamo essere tranquilli andare in vantaggio e gestire il vantaggio ci renderà più tranquilli così come stasera perché il Benevento ha dimostrato di gestire la gara davvero a suo piacimento grazie e chiaramente con te ci ritroviamo sabato grazie a te Pasquale un saluto ai telespettatori saluto al quale mi accodo come sempre anche io grazie alla regia di Paolo Romano continuate a seguirci sui nostri siti 8pagine.it 8channel.tv per stasera è veramente tutto ci vediamo con Offside Benevento sabato prossimo buonanotte con Offside Benevento Grazie.